Mauro Venni, il direttore della Corsa Rosa, qual è la difficoltà di creare un percorso così, di creare il percorso del Giro d'Italia? Sono diversi fattori che contribuiscono a fare un giro, chiaramente l'aspetto tecnico è fondamentale, quindi dare equilibrio alla corsa e poi soprattutto cercare di inserire nei fini di settimana momenti importanti dal punto di vista sportivo per tenere alta l'attenzione della gente davanti ai televisori o sulle strade del Giro. Qual è l'emozione di partire fuori dall'Europa a Gerusalemme e di arrivare a Roma? È un processo che è iniziato tanti anni fa, è un processo di internazionalizzazione del Giro, per noi Gerusalemme e in particolare Israele ha rappresentato un punto di arrivo e soprattutto abbiamo l'immenso piacere di essere stati i primi a esportare un grande Giro fuori dall'Europa.